Se volete trovare la vita una volta, se non avete un'idea, se non avete un'idea, se no che qualcuno sarebbe eroi vagabondini, conseguono sempre qualcosa. C'è degli altri? No, per primo momento. Almeno per tutti gli altri, per il canale. No? No. No, per il punto speriamo di ricordare che ero licenziati. Tutto con te, scusate. Eh, se non ci sono problemi, vorremmo organizzare il generale che è in questa situazione. Normalmente questa è la procedura. Però vedete c'è un piccolo problema. Voi non siete i tuoi in un'idea di ricorda, neanche in secondo, siete i terzi. Beh, che cosa ci usate di fare? Provatevi per il ricorda. Ah. Grazie. 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 Grazie.